La luna nel cielo scuro accompagnata dalle velature delle nuvole ha illuminato la piazza vuota ieri sera per l'accensione dell'albero di Natale di Fano. Un'inaugurazione così del Natale più fanese non si era mai vista, pochissima gente, soltanto alcuni fotografi, qualche curioso e le forze dell'ordine. Niente effetti scenografici e niente atmosfera dal vivo, ma grazie alla regia di Harris e Chiaroli, attraverso la diretta su Fano.tv, è stato possibile trasmettere nelle case dei fanesi e non solo la cerimonia di accensione. A far da padrone la serata è stato il concerto eseguito all'interno del Teatro della Fortuna dall'orchestra sinfonica Rossini e dall'esibizione delle campionesse della ginnastica Aurora, che con i loro movimenti hanno emozionato tutti. Al culmine dello spettacolo, le ragazze sulle note dell'Alleluia sono uscite nella piazza vuota e come per magia hanno acceso l'albero contornato da 25.000 luci LED, comprese le luminarie lungo il centro storico. Prima della cerimonia però, il sindaco di Fano e l'assessore Lucarelli hanno voluto lanciare un messaggio di speranza alla città. Il Natale è anche momento di solidarietà, solidarietà che oggi, come non mai, vogliamo dimostrare verso coloro che in questo anno che volge al termine hanno sofferto a causa del Covid e delle sue conseguenze. Saranno festività che non dimenticheremo perché sarà un Natale diverso, ma diverso non significa più brutto, per forza brutto, meno festoso e più triste. Quando le cose sono sempre uguali, spesso non facciamo caso ai particolari, non apprezziamo alcune caratteristiche di valore e tendiamo a dare tutto per scontato. Quando invece qualcosa cambia, anche le nostre percezioni mutano e diventiamo più attenti e sensibili a cosa conta davvero. Ecco allora che la diversità può essere intesa anche come sintomo di ricchezza, quando ci aiuta a valutare meglio quali sono le cose veramente importanti della vita. Restiamo uniti, restiamo solidali e rispettiamo chi ci è vicino. Solo così riusciremo a ripartire il prossimo anno con successo. Buone feste a tutti. A conclusione dello spettacolo, scattate le 10 di sera, il Centro Città si presentava così. Buone feste a tutti.